Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino. Grazie per questo primo incontro della seconda giornata di Trame. Allora, discutiamo di un tema abbastanza... perché chi sono questi due signori che sono con me? Sono Marco Romano, direttore del giornale Sicilia, Lino Margante, direttore della Gazzetta del Sud. Questi due giornali, uno di Messina e uno di Balermo, servono un pubblico teorico, perché la Gazzetta del Sud si rivolge anche alla Calabria, il giornale Sicilia si rivolge a tutta la Sicilia occidentale. Questi due giornali, quest'estate, una storica, una anch'essa storica, anche se più recente, hanno fatto una fusione, sono diventate un'unica società e sono diventate la più grossa società editoriale, perché insieme al giornale ci sono due televisioni, ci sono radio e poi naturalmente siti, altri canali, canali multimediali. Il più grosso gruppo editoriale a sud di Napoli, forse a sud di Roma, considerando che Napoli, il giornale che c'è a Napoli del mattino, è del gruppo Calcio al Girone e quindi è un gruppo romano centrico, chiamiamolo così dal punto di vista economico finanziario. Questa è la prima grossa realtà che nasce e che si rivolge potenzialmente a 7 milioni di persone, la Sicilia, ovviamente buona parte della Sicilia e buona parte, se non tutta la Calabria. A noi ci sembra interessante, per questo abbiamo voluto parlare con loro due, che nel momento in cui i giornali sono in crisi, lo sapete tutti, le redazioni purtroppo sono falcidiate dai prepensionamenti, si vendono meno copie, c'è la crisi della carta stampata, come sapete, in tutto il mondo. Io credo che due testate avrebbero deciso di fare una sfida, di lanciare una sfida in un momento che paradossalmente magari veniva più facile chiudere un giornale, visto le perdite, i costi che ci sono, visto il fatto che è un mezzo che probabilmente già oggi consideriamo in un modo diverso da come lo consideravamo appena 5-6 anni fa. Molti di noi, molti di voi non vanno più in un'edicola da mesi, però leggono, allora con loro volevo un po' capire, capire che cos'è, partire da lì, cos'è questa sfida, perché questa sfida lanciata a sud, quanto è influito la crisi e qual è il progetto di mettere insieme queste due testate storiche? Buonasera a tutti, grazie Gaetano. Noi abbiamo voluto ricostituire il Regno delle Due Sicilie, ma non dal punto di vista politico, quindi non siamo monarchici, siamo repubblicani, pensiamo che sia una buona forma di governo. Abbiamo voluto ricostituire il Regno delle Due Sicilie perché riteniamo che Sicilia e Calabria siano dei territori omogenei, che abbiano delle necessità comuni, delle grandi potenzialità comuni, e quindi abbiamo voluto puntare su queste due regioni. Ovviamente siamo due giornali che hanno vocazione meridionalista, nel senso migliore del termine, vogliamo sottolineare i difetti che abbiamo, noi siciliani e noi calabresi siamo un po' individualisti, partecipano poco alle cose interessanti perché ci piace più coltivare il nostro orticello piuttosto che fare ragionamenti di prospettiva. Ma le prime chiacchierate informali con il dottor Ardizzone, con la famiglia Ardizzone, che aveva la proprietà del giornale da tempo immemorabile, 157 anni, se non ricordo male, 158, quindi tradizione e famiglia di importante, abbiamo cominciato a ragionare su questa idea di unificare due regioni importanti come la Sicilia e la Calabria, perché riteniamo, lo abbiamo ritenuto prima, ma a maggior ragione oggi, dopo i primi risultati, che il peso dei due giornali non sarebbe stato 2 più 2, 4, ma sarebbe stato 5. 5 significa più possibilità di fare pressing, più possibilità di difendere i nostri interessi e più possibilità di sviluppare le nostre battaglie comuni, perché bisogna dirlo molto chiaramente, non è un problema di volersi lamentare a tutti i costi, ma certamente non possiamo essere soddisfatti di come sono state trattate queste due regioni. Lo ripeto, abbiamo noi delle problematiche e spesso è anche colpa nostra se alcune cose non vanno bene, ma su altre non si può non dire che Sicilia e Calabria sono sempre state due regioni scartate. Sono state scartate per tanti motivi, ma è comunque un dato di fatto. Nei giorni scorsi ho scritto un articolo che parlava di portualità, abbiamo grandissime potenzialità, ma da quanti anni si parla di potenziare il porto di Gioca d'Auro, giusto per fare un esempio. Quindi noi riteniamo che questa sfida le due regioni la possano vincere insieme, perché se la vinceranno insieme significa anche portare dei grandi vantaggi non soltanto a noi, ma anche al resto d'Italia. Non ci può essere un'Italia che funziona se non c'è un sud che funzioni, quindi questa è stata una sfida legata non soltanto al futuro dei due giornali, ma legata anche al futuro di due regioni. Poi sai, io non credo che ci sia poi una crisi della carta stampata, c'è purtroppo una crisi della lettura, si legge poco, pochissimo, e quindi si leggono poco o meno i giornali, si leggono poco o meno i libri. Quindi diciamo che l'informazione si è polverizzata e probabilmente oggi ci si accontenta di un'informazione così, la McDonald's direi io, cioè mordi e fuggi, mi collego su qualche sito, uno qualunque, la prima cosa che vedo, leggo, e forse mi convinco che quella sia anche la verità. Bisogna ricordarsi che la qualità è una cosa importante per chi la fa, ma anche per chi ne soffrisce di questa qualità. Se oggi si va al supermercato, si vedono tante persone che prima di comprare cominciano a leggere cosa c'è in quello scatolo, in quella bottiglia, perché prima di comprare qualcosa si vuole essere consapevole di quello che si compra. La stessa cosa dovrebbe essere per l'informazione, bisogna essere consapevole di quello che si legge, perché certamente giornali Sicilia e Gazzetta possono anche sbagliare, anzi qualche volta sbagliamo perché c'è anche la fretta di dover dare le notizie, quindi non sempre l'approfondimento è perfetto, non sempre quello che vorremmo si realizza, ma comunque sia poi quando sbagliamo lo riconosciamo. Però c'è una tracciabilità della notizia, cioè voi sapete che leggendo quella notizia certamente non leggete le sciocchezze, ci può essere qualche precisione. C'è una testata che ne risponde. La testata ne risponde. Oggi il mondo del web è un oceano, si va a pescare come capita, ma non si sa mai quello che poi tirate fuori con la rete. Quindi è una doppia sfida, è una sfida per la Sicilia e la Calabria, che noi vogliamo portare avanti con il generale Sicilia, ed è una sfida anche per un'informazione più attenta, più capillare, perché è chiaro che il problema c'è, si legge un po' di meno, si comunica un po' di meno e quindi le risorse vanno a razionalizzare, vanno a spesso nel modo possibile, questo sempre per garantire la qualità. Ecco, tu vieni da Palermo, penso che ci hai impiegato quattro ore abbondante di arrivare alla Mezzia. Una città come Palermo, una città come Catanzaro, in teoria hanno quasi pochissimi contatti. Come si mettono insieme due giornali che si sono molto radicati sui propri territori, come il giornale Sicilia, che si rivolge a Palermo, alla Sicilia occidentale in particolare, con una regione che è vicina, ma in realtà anche per i mezzi di trasporto è distantissima e quindi un cosentino impiega meno tempo ad andare a Milano che arrivare a Palermo, sicuramente. Potrei dirti anche che per andare a Tunisi o scegli la nave oppure devi prima salire a Roma e poi scendere giù per andare a Tunisi, nonostante Tunisi sia più vicino a Palermo, molto di più di quanto lo è Roma. Credo che la logistica e anche la capacità di potersi spostare nel meridione sia uno dei problemi atalici del territorio. Però paradossalmente questo può essere un vantaggio per la capacità di poter fare informazione scavalcando e azzerando le distanze. È importante precisare una cosa, si è parlato della fusione, ha detto fusione appunto, di questi due giornali, è importante dire che sono due giornali che continueranno a camminare paralleli, non sono due giornali che si fondano, sono due giornali che continuano a viaggiare ognuno attraverso il proprio mercato. Il nostro, come hai precisato tu, è prevalentemente siciliano, quello della Gazzetta è prevalentemente messinese e calabrese. Credo che il ruolo dei giornali sia fondamentale proprio perché sono capaci in qualche modo di riuscire ad andare oltre il tutto e subito di cui si parlava prima, il famoso fast food di cui parlava anche Lino, la capacità di poter radicare attenzione e affidiabilità nei territori. E non a caso, in questo mare magnum della crisi congiunturale che dura ormai da parecchi anni della carta stampata in termini di vendita, in termini di feeling pubblicitario, non a caso chi soffre di più di questa crisi sono i giornali nazionali. Intendiamoci, i giornali locali ne risentono parecchio anche, però in proporzione la sfida con il mondo digitale è una sfida per noi meno titanica rispetto a quella dei giornali nazionali. Perché proprio il radicamento nei territori, la capacità di poter raccontare un territorio dal di dentro con un know-how, con una capacità, con una presenza, una capillare attenzione e conoscenza dei territori che la rete, giovane per antonomasia, non soltanto perché è fatta prevalentemente dai giovani, non ha. Ed è quello su cui noi facciamo affidamento. Cioè il fatto che i giornali sicili e il Gazzetta del Sud si mettano insieme, lo fanno non per, come dire, accumulare il proprio pubblico, ma per servirlo in maniera ancora più diffusa. Secondo economie di scala, che ovviamente nel mondo... Immagino che ci saranno, che so, posso immaginare, le pagine nazionali in comune. Ci saranno fatte delle sinergie, che ovviamente viaggiano su tutti i livelli aziendali, naturalmente non soltanto su quelli giornalistici, ma su quello. Lino naturalmente è molto più preparato di me. Ci saranno anche dei contenuti che possono essere sovrapponibili, ma sono contenuti che in qualche modo poco hanno a che vedere con la specificità territoriale dei giornali. Tu citavi appunto, cito gli esteri, cito le cronache nazionali, cito l'economia nazionale, per poter dedicare maggiore attenzione appunto ai territori. Ed è quello che in qualche modo vogliamo fare in territori particolari, come la Calabria e la Sicilia, che sono territori importanti e interessanti da raccontare. Sono, credo, anche una grande scuola di giornalismo, e qui puoi dirlo tu prima ancora di me, e che ovviamente hanno bisogno di un'attenzione, di una preparazione, di un'esperienza, che giornali come il nostro e come la Gazzetta abbiamo la presunzione di poter dire di avere. Poco fa tu parlavi di una cosa che a mente resta molto. A questo punto un soggetto editoriale così, un gruppo editoriale così, è anche un soggetto politico editoriale. E tu poco fa lo accennavi. Questo soggetto politico editoriale può fare in un momento in cui c'è una politica, un governo che, che so, ci sono le 5 stelle che sono state elette al sud, ma dove l'attenzione per il sud al momento sembra non ancora dichiarata, mettiamo così, in questi termini. C'è un leader della Lega eletto a Reggio Calabria, il ministro degli interni Salvini. Questo gruppo editoriale può avere una voce, può far sentire la sua voce per un sud dove la questione meridionale è completamente cancellata. C'è la questione meridionale è che diamo il livello reddito della cittadinanza e non si lamentino. Di fatto è questo, mi sembra dico così, a vederla ad occhio. In effetti sì, si sta tornando un po' alle logiche della cassa per il mezzogiorno. Dice, buttiamo un po' di soldi e li facciamo stare tranquilli. La cassetta in questo caso. La cassetta. Dice, mettiamo un po' di soldi e li facciamo stare tranquilli. Noi non vogliamo stare tranquilli, noi vogliamo quello che ci compete, quello che tutti hanno, in buona parte d'Italia, e noi non abbiamo. Non abbiamo le ferrovie. Per arrivare da Messina a Palermo spesso e volentieri prendo il pullman, perché le ferrovie sono a binario unico, non funzionano, non ci sono treni frequenti, gli aeroporti di importanti ce ne sono due, ma non sono collegati con la rete autostradale, con la rete ferroviaria altro paradosso, quindi noi ci vogliamo intestare questa battaglia a favore della Sicilia e della Calabria. Ma francamente non ci interessa il reddito di cittadinanza, perché poi alla fine sono politiche molto di corto raggio. A noi interessa che si faccia un investimento sul futuro di queste due grandi regioni. Quindi noi vogliamo esercitare, passami il termine, il peso politico che abbiamo, un po' di più di quello che avevamo prima, per fare in modo che questo Governo si ricordi che da questo lato, dopo la Polizia, ci sono due regioni che hanno 7 milioni di abitanti che vanno a votare e che tra qualche anno chiederanno conto di quello che sarà fatto. Visto che siamo presi dei libri sulle mafie, parliamo anche di mafia, ma ecco il giornale Sicilia ha avuto una vittima come Mario Francese, un giornalista ucciso dalla mafia, eppure ad esempio nel film che è stato tratto, ha ispirato la figura di Mario Francese, il giornale Sicilia, ci metto anche nella gazzetta con una storia diversa, sembrano sempre due giornali non abbastanza coraggiosi, o forse il giornale Sicilia. C'è un problema nel passato di un racconto che può essere stato timido, o c'è un problema di un giornale che non è riuscito a diventare bandiera? O forse c'è un problema di demagogia su questa cosa. Noi abbiamo preso una posizione molto severa nei confronti della fiction che è stata girata in memoria di Mario Francese, molto critica nei confronti degli sceneggiatori, perché è anche parecchio distante dalla realtà raccontata nelle aule giudiziarie e dalle sentenze, parecchio distante dalla verità processuale, molto vicina invece alle verità degli stomaci, alle verità raccontate da chi in qualche modo può utilizzare questo tipo di vicende prodomopropri. Ora io non voglio entrare in polemica, l'ho già fatto in passato, l'abbiamo fatto anche con dei editoriali sul giornale, non voglio entrare in polemica con chi ha tirato su quella fiction. Io dico soltanto una cosa, io dico soltanto che Mario Francese, 30 anni fa, è morto, ucciso dalla mafia, perché per anni sul giornale Sicilia ha scritto cose che nessun altro scriveva in quel periodo. La famosa inchiesta sulla di Gagarci ha tirato fuori il nome di Irina e quello che ha in qualche modo raccontato per la prima volta quale erano le gerarchie del potere mafioso in Sicilia e lo ha fatto sulle pagine del giornale Sicilia, nessuno gliel'ha mai impedito ed è morto per quello. Io credo che basti solo questo perché si possa rappresentare qual è la realtà pragmatica. Poi ovviamente la lirica delle suggestioni può portare a tutto, perché è evidente che il contesto in cui Mario Francese 30 anni fa lavorava, 30-35 anni fa lavorava, era un contesto diverso da quello di oggi, era un contesto in cui c'era meno consapevolezza sociale di quello che fosse il potere mafioso, c'era un'inferiore capacità di ribellione. Ricordiamo che siamo molto distanti dalle grandi stragi di mafia ancora, il 1992 ce lo siamo detti in passato. Con Mario Francese si inaugura la stagione della seconda guerra di mafia del Cordonesi. Esatto. Dopo le stragi comincia nel sentire comune una presa d'atto di coscienza che la mafia è un cancro, una metastasi che va combattuta. Quello erano anni in cui c'era una sorta di tacita e pacifica convivenza, non perché ci fosse collusione, ma perché non c'era consapevolezza. Allora probabilmente in questo contesto si innesta il meccanismo di chi ritiene che all'interno di un giornale ci possa essere poca vicinanza e poco sostegno a un giornalista. Però io credo che la cosa più importante per un cronista sia poter avere la libertà di poter raccontare le cose che sa e le cose che scopre. Mario Francese lo ha fatto, lo ha fatto sul giornale Sicilia ed è stato ucciso perché lo ha fatto sul giornale Sicilia. Credo che tutto il resto sia, non lo so cos'è, ma certamente non è la verità che viene fuori da queste cose. Lino, vorrei anche avere un applauso per Mario Francese, giornalista coraggioso. Io ho lavorato al giornale Sicilia, ho iniziato al giornale Sicilia e ho iniziato in anni in cui la Sicilia era il centro dell'attenzione. Oggi vedo che anche un po' la comunicazione dalla Sicilia è cambiata, in questo momento Palermo è capitale alla cultura, è diventata anche una comunicazione patinata, si parla anche di Palermo come città della Movida, degli eventi culturali. A torta ragione, quello magari lasciamo perdere. Dalla Sicilia sono venuti per tanti anni delle notizie terribili, adesso viene anche il cibo, i luoghi del mare, il turismo, i vini, i gattobardi, gli ultimi, i penultimi, insomma tutta una retorica un po' battinata sulla Sicilia Glemor, quella che io chiamo una Sicilia Glemor. Sulla Calabria questa operazione non riesce ancora a scattare. C'è a questo punto un problema, Pignatone diceva, la Calabria rischia di essere informativamente un buco nero, riesce a raccontare solo l'anzangheta, non riesce a raccontare niente. Noi facciamo questo festival, voi siete anche partner e vi ringraziamo. L'altro giorno in un pezzo sulla Repubblica, sul sito della Repubblica c'erano i 120 festival più importanti in Italia, noi siamo contenti di esserci come trame, ma era l'unico della Calabria e non posso credere che in Calabria esista solo trame perché non esiste solo trame, esistono anche tantissime altre realtà. Qual è il problema di riuscire a comunicare e quindi a essere attrattivi anche una Calabria che sia anche un po' Glemor come nel frattempo è diventata la Sicilia? Volevo prima di rispondere a questa domanda fare un passo indietro e ricollegarmi a quello che ha detto Marco a proposito di antimafia. La prima antimafia e le prime battaglie antimafia, l'abbiamo fatta in Sicilia e in Calabria perché al nord arrivavano notizie, ogni tanto c'era qualche... succedeva qualcosa, ma noi eramo in prima linea. Gazzetta del Sud quando ha riferito e ha scritto che il primo maxiprocesso ha subito tre colpi di pistola e una bomba che ha fatto saltare il bar del giornale. E meno male che il bar del giornale salta in aria a luna di notte perché se fosse salta in aria due ore prima avremmo avuto un paio di morti. Quindi le battaglie le abbiamo cominciate prima in Sicilia e in Calabria, poi se ne sono resi conto anche fuori che c'era un problema di indrangheta e di mafia perché come avete detto bene è un problema di percezione, come l'ha detto assolutamente Marco, la percezione l'abbiamo avuta prima noi che la mafia e l'indrangheta sono un cancro, poi se ne sono resi conto anche fuori. Però la prima linea l'abbiamo fatta noi, loro hanno avuto un morto, ne abbiamo avuto tre colpi di pistola, bombe e altre storie, quindi è successo quello che è successo, lo sappiamo tutti. Io credo che oggi la Calabria rispetto alla Sicilia sia qualche anno indietro perché le stragi di Falcone e Borsellino hanno svegliato la Sicilia come da un brutto sogno, ci siamo resi conto che bisogna fare di più, che non si poteva soltanto subire e quindi il processo per eccezione è andato avanti molto rapidamente e la consapevolezza si è diffusa rapidamente perché la morte di Falcone e Borsellino hanno veramente colpito la Sicilia intera anche più distratti, quindi là è cominciato subito un'opera culturale dentro le scuole, nella società, tra gli stessi giornalisti, è stato per noi un trauma e ci siamo svegliati improvvisamente e abbiamo detto ma che cosa sta succedendo, dobbiamo muoverci prima che sia troppo tardi. Credo che da questo punto di vista proprio della percezione di quanto sia invasiva la mafia, di quanto possa essere dell'Eteria, altrettanto dell'Andrangheta, in Calabria ci sia di meno, si deve lavorare un po' di più perché io vedo qua tanti ragazzi, dobbiamo ricordare che il Consiglio è stato sciolto per la terza volta qui alla Mezzia, abbiamo un commissario, io confido molto nei ragazzi, nei giovani perché è la consapevolezza che può aiutare e la consapevolezza poi fa buona stampa, fa buona percezione. Bisogna migliorare la percezione che sia fuori sia dalla Sicilia sia dalla Calabria. Noi ci siamo riusciti, meglio di quanto sia avvenuto in Calabria, ma perché abbiamo cominciato prima e ovviamente ci vuole tempo, bisogna fare tante cose come quello che fai tu da un po' di anni a questa parte, come quello che fate voi. Bisogna lavorare molto sulla percezione e far capire fuori, che i problemi ci sono, ma la gente ha la consapevolezza di questi problemi, del ruolo invasivo dell'Andrangheta e si impegna tutti i giorni per fare in modo che le cose possano andare meglio. Del resto cosa succede? Quando ci sono operazioni in giro per l'Italia c'è sempre qualche Andranghetista o qualche famiglia di Andrangheta a Milano, Torino, Roma, è un problema di percezione dalla Calabria. La Calabria non gode di una buona stampa, non è percepita nel modo giusto o quantomeno paga più di quanto dovrebbe questo piccolo grande ritardo rispetto alla Sicilia. Però io sono ottimista. Dico, ma ecco, un giornale come il tuo, oltre naturalmente a raccontare quello che succede, c'è la possibilità secondo te di fare delle iniziative che in qualche modo facciano vedere anche il fatto positivo, ma soprattutto riescono a superare la soglia di Lago Negro? Assolutamente. Tu ricorderai che quando mi hai proposto questa partnership io ti dissi subito immediatamente, perché noi creiamo molto a queste cose, noi preferiamo le buone notizie alle cattive notizie. Se volessi fare un ragionamento proprio da opportunista direi che le notizie brutte ci fanno vendere molto, è della verità, quando ci sono notizie omicidi, operazioni in dranga, noi aumentiamo la vendita del 40%, ed è una cosa che vi dico sinceramente non mi fa piacere. Io vorrei vendere il 40% in più di gazzetta quando ci sono iniziative come queste e quando si parla di buone cose. Nonostante tutto noi cerchiamo sempre di dare le cattive notizie, perché vanno date, facciamo giornalismo, vogliamo approfondire queste problematiche, ma cerchiamo anche di dare quelle buone, di enfalizzare, perché spesso e volentieri succede che le notizie negative le si dà a tutta pagina, quelle positive che hanno altrettanta importanza le si dà magari in poche righe. Noi non lo facciamo mai, non lo vogliamo fare noi, non lo vogliamo fare, ci piacerebbe che anche altri facciano la stessa cosa, si comportino allo stesso modo. Parlare male della Sicilia e della Calabria va bene quando ci sono cose che non vanno, ma bisogna anche parlare bene e enfalizzare le cose che vanno bene. Quello che funziona. Posso aggiungere una cosa? Proprio questo può essere uno dei motivi di un certo malinteso modo di fare informazione. Quello che dicevo a dire è vero, c'è la voglia da parte del giornale di poter raccontare anche la faccia positiva dei propri territori, spesso da chi su questa cosa vuole giocare, viene scambiata come la voglia, la necessità di non voler raccontare ciò che invece di brutto c'è sui territori e quindi si torna al discorso che facevi prima di Mario Francese, della possibilità che ci fosse una certa trascuratezza o una certa inedio e indolenza da parte dei giornali nel raccontare quello che succedeva nei territori. A proposito del ragionamento su Sicilia e Calabria che facevi prima, io vorrei usare forse una provocazione per provare a spiegare il motivo per cui la Sicilia ci è arrivata prima rispetto alla Calabria che ovviamente ci auguriamo ci arrivi, perché lì sta anche la differenza forse della natura, del DNA genetico della mafia e dell'andrangheta. La mafia ha raggiunto un livello di sfida allo Stato tale, con la stagione delle stragi, che ha inevitabilmente toccato lo zenith e quindi ha inevitabilmente scosso le coscienze in maniera così plateale, in maniera così determinata, in maniera così evidente, che ha quasi da sola firmata la sua condanna a morte, che è ancora un'agonia, non è morte, è ancora un'agonia, ma è un'agonia. L'andrangheta da questo punto di vista credo che abbia una capacità di insediamento molto più, come dire, molto meno evidente, molto meno plateale, ma non per questo meno meno grave, ma è meno perniciosa. E questo in qualche modo contribuisce a mantenerne ancora una certa solidità, una certa stabilità nei territori. La mafia fa le stragi e comincia a perdere. L'andrangheta fa le collusioni e quindi continua a essere in qualche modo presente e oppressiva e ossessiva nei territori. Forse c'è anche un altro aspetto, penso che condividerete. L'organizzazione mafiosa era verticistica e quindi il pentilismo e gli infiltrati hanno portato dei buoni risultati. Esattamente. L'andrangheta baserà sulla familiarità, cioè familistica, e quindi infiltrarsi in ambienti che sono legati da vincoli di sangue ovviamente è più difficile. Però si può riuscire se la società civile si impegna tutti i giorni in continuazione per debellare il fenomeno. Ora vi faccio una domanda a tutti e due, state attenti come rispondete. Tra questi ragazzi ci sono molti che lavorano nel nostro ufficio stampa, molti che forse sognano di fare giornalisti. Sapete, il mestiere ha ancora un suo fascio, le facoltà di scienza e comunicazione sono piene di studenti, le scuole di giornalismo. Voi siete due direttori, siete quelli in cui uno di questi ragazzi un giorno, o due, o tre, o dieci, si presenteranno e diranno posso provare a fare, non dico assumetemi, posso provare a scrivere, posso provare a fare un servizio nella vostra televisione, in una radio, un articolo. E siccome lo vengono a chiedere a me, e a me non mi va di dire lascia perdere cambia strada, voi cosa gli rispondete? Quale possibilità? È un mestiere che uno dice non lo fare, fare fruttivendolo, fare idraulico perché camperai per i prossimi anni a 500 euro al mese se ti va bene, o bisogna crederci perché c'è qualche possibilità ancora di poterlo fare, magari in modo diverso da prima, ma di poterlo fare? Oggi è un po' più complicato, ma devo anche dirvi che se oggi dovessimo pensare io e Marco di fare un'assunzione, di assumere un giornalista, non avremmo tanta facilità nel trovarne uno bravo al 100%, perché la professione è cambiata parecchio e l'idea del giornalismo è profondamente diversa. Oggi il giornalista intanto deve essere molto colto perché la realtà è diventata complessa molto più di prima e quindi chi vuole fare questo mestiere deve comunque avere delle grandi capacità di approfondimento e quindi scendere anche nei dettagli di cose che teoricamente sarebbero eccessivamente tecniche e certamente da questo punto di vista la scuola e l'università possono fare tanto. Poi bisogna avere anche la voglia di spendersi in maniera diversa, oggi la notizia può essere la notizia di 30 righe che va sul giornale, ma può essere anche il servizio per la televisione o per la radio o per il web. È molto cambiata la professione, quindi bisogna essere consapevoli che è molto cambiata e quindi avere più strumenti per poterlo fare. Oggi ci sono dei bravi giornalisti della carta stampata, dei bravi giornalisti della televisione, della radio, del web, ma è davvero difficile in questo momento trovare un giornalista che sappia fare bene tutte queste cose, cioè la capacità di passare da 60 righe a 15 righe per un servizio TV o per un servizio da mandare in radio. Quindi io non sono pessimista rispetto alla professione. È molto più difficile di prima perché richiede più competenze e anche, devo dire, più pazienza. Una volta era, ripeto, si era un po' più specializzati, si faceva carta stampata, oggi non è più così e forse bisognerebbe avere anche la qualità che oggi è venuto un po' meno della curiosità, perché oggi si fa troppo lavoro di desk, si sta troppo seduti davanti a una scrivania e quindi bisognerebbe tornare per certi versi all'antico, come si faceva una volta, cioè camminare, guardare, osservare. Quindi ci sono due cose che devono essere apparentemente incompatibili, ma sono invece due facce della stessa medaglia. Come si faceva una volta, il giornalismo investigativo, cioè la curiosità, andare in giro, confrontarsi con la gente, muoversi e poi anche la capacità di poter declinare l'informazione su più piattaforme. Io ogni tanto dico ai miei colleghi, per avere idea di come stanno veramente le cose e di quello che dobbiamo fare, non bisogna stare soltanto qui in gazzetta, bisogna salire sul tram, prendere l'autobus, muoversi, andare al bar, sentire cosa dice la gente, dal barbiere, perché sennò rischiamo di perdere il polso della realtà che ci sta attorno. Io, e se oggi mi dovessero chiedere, possiamo fare questa professione? Direi sicuramente sì. Speriamo, naturalmente questa volta facciamo anche le domande, se ci sono, fatemi un segnale. Sì, ma tu da quanto tempo che non assumi una persona? Tu sei direttore del Giuseppe di Sicilia da un anno e tre mesi. Hai assunto qualcuno? No, non ho ancora licenziato nessuno. E di questi tempi ti assicuro che non è poco. Non è poco, davvero, in questo momento non è poco. Intanto bisogna avere il sacro fuoco dentro, ma questo credo in tutte le professioni in generale, nel giornalismo in particolare. Però io voglio ribaltare il concetto di Dino Morgante, perché è vero che probabilmente oggi non c'è una grande preparazione specifica da parte di chi si approccia a questa professione in maniera forse un po' troppo laica, con un approccio emotivo molto più ovattato rispetto a un tempo. Però probabilmente è vero anche il contrario. È vero anche che siamo noi a insegnare meno giornalismo ai ragazzi. E questa è un'autoaccusa quello che faccio, naturalmente, perché la necessità di un giornale tradizionale, nelle sue molteplici sfaccettature, che comprendono anche la radio, la televisione, in sito, come i nostri in particolare, ha purtroppo la necessità di dovere in qualche modo accelerare rispetto alle esigenze del proprio lettore. Questo non ti consente di poter avere una squadra di giornalisti a cui puoi concedere il lusso di potersi spendere un attimo di più per poterti portare il prodotto. Io capisco che un discorso può sembrare un discorso molto, come dire, profano, molto pragmatico. Però purtroppo la capacità di un giornalista oggi deve essere commisurata anche alla velocità del giornalista. Un tempo non era così. Un tempo tu avevi il tempo e la possibilità di poter approfondire le cose perché non avevi la necessità di doverti confrontare con altri mezzi di informazione. Oggi la velocità della notizia è tale che non ti consente di apprendere e conoscere bene la notizia. È importante saperla dare bene e soprattutto saperla dare prima. Prima non era così. Quindi questo in qualche modo aiuta ad essere smart nella produzione della notizia e quindi ti aiuta ad essere smart anche nel diventare giornalista. Forse il giornalismo di inchiesta, come lo intendevamo noi, come lo faceva Salvatteri un tempo e come si faceva nei giornali negli anni 70 e 80, oggi va rivisto e va ridisegnato. Questo non significa saper fare oggi il giornalista in maniera inferiore rispetto al passato. È un modo diverso di fare il giornalista. Del resto tu devi stare in qualche modo al passo coi tempi. Forse proprio il mondo editoriale è quello che in assoluto deve cavalcare ai tempi che vive e non in qualche modo vivere di nostalgie, perché altrimenti già sta succumbendo, probabilmente anticiperebbe la fine, la propria fine, la fine del proprio destino. Il mio primo servizio di inchiesta fu il mio capo cronista che mi mandò a Mondello per sapere se la gente mangiava il panino con le panelle o il panino con la milza. Non fu una grande inchiesta. Tu l'hai provato naturalmente. Io ho provato e ho fatto anche... ho intervistato Mezzamondello vestito da capo a piedi con toni gentili e fotografi, quindi ancora ce lo ricordiamo. C'è una panella, ma molti portavano la casa, le signore portavano la casa, la fettata e il panino, abbiamo scoperto che andava all'asporto. Per finire su questo tema, però c'è il rischio che ormai i giornalisti sono mal pagati, anzi non sono pagati, perché quando tu li paghi 5 euro, 4 euro un pezzo una notizia, questo vuol dire che un giornalista non si può costruire, un giovane giornalista non può costruire un futuro sull'ipotesi di un precariato a 600 euro, che non è solo del giornalismo, questo problema. Però nell'informazione, avendo tutta questa massa di gente che bene o male si ascrive, laureate, diplomate, sono diventati quasi come i raccoglietori di pomodori qua nella piana, i giornalisti, ce n'è sempre uno che ti può fare un video. Ma non voglio fare un discorso sindacale, c'è un problema che la crisi ha di fatto depreciato questo mestiere e lo ha fatto diventare di scarsa qualità. La crisi, la vocazione, ma direi anche la esasperata digitalizzazione di questo mestiere. Noi oggi ci confrontiamo, noi giornali strutturati, tradizionali, ci confrontiamo con un mondo che non ha regole. Il nostro concorrente è un mostro a dieci test che si chiama internet, che si chiamano blog, che si chiamano piccoli siti di informazione, in cui quelli che tu giustamente citi come sottopagati nei giornali sono quasi schiavizzati. E lì non ci sono regole. Se io faccio scrivere su un giornale un giovane cronista, un giovane apprendista e io non lo pago, io sono passibile di provvedimenti anche di natura penale. Su internet no. Su internet succede che tutti fanno tutto quello che vogliono, non ci sono regole, non esiste il direttore responsabile della testata, non esistono le responsabilità penali, non esistono contratti. Allora tu inevitabilmente è con questo mondo che ti confronti e le proporzioni di tutto ciò che sei in grado di concedere sono inevitabilmente condizionate da quel mondo. Poi è chiaro che io vorrei avere al giornale cronisti bravissimi, sarei disposto a pagarli cifre ingenti, però poi devo fare i conti con il mercato. E il mio mercato è purtroppo un mercato drogato e le conseguenze le pagano le aziende, gli editori, i direttori e ahimè anche i giornalisti, anche coloro che cominciano con questa professione. Sono domande interrogativi, io naturalmente lo dico. Domanda. La creazione di un altro gruppo editoriale è abbastanza grosso, dopo non so per esempio visto che già in Italia c'è Gedi, c'è Urbano Cairo, non è in questo senso un pericolo per l'indipendenza dell'informazione o meglio nell'avere più fonti diverse che è insomma anche uno dei punti fondamentali dell'essere informati. La concentrazione quindi. Oggi in Italia abbiamo 63 testati importanti, di queste 63 un terzo sono sotto il controllo di quattro gruppi che sono principalmente Repubblica, Caltagirone, Poligrafica, Gruppo Rifser e ovviamente RCS. Sarà inevitabile che ci siano altre concentrazioni. Io penso che da qui a qualche anno le testate diminuiranno, molti centri stampa chiuderanno e quindi si dovrà arrivare a una razionalizzazione di sistema, ma non vedo sinceramente nessun pericolo perché sono tante e tali le fonti oggi che non si può nascondere più niente. Una volta capitava, io ormai ho 30 anni di mestiere, arrivavo alla telefonata, sai che hanno arrestato il figlio di Tizio, è successo questo, è successo quest'altro, per favore non mettiamo i nomi o mettiamo le sigle. Noi abbiamo sempre messo le sigle quando si trattava di piccole cose e quindi quando i magistrati o le forze di polizia davano le sigle abbiamo messo nome e cognome quando è stato dato nome e cognome, sempre nel rispetto ovviamente delle regole perché dietro ogni persona che può anche sbagliare ci sono famiglie, quindi mogli, figli e tante altre cose, quindi siamo sempre stati attenti. Ma oggi, come ieri, non abbiamo mai nascosto niente, ma se anche volessimo farlo non sarebbe possibile, perché oggi c'è la rete, ci sono le televisioni, ci sono le radio, oggi non si può fare uno scoop perché è difficile, perché le notizie volano, corrono e davvero non si può nascondere. Infatti le fai sul sito, le devi fare sul sito. Non si può nascondere nulla, del resto consideriamo una cosa, tutti i giornali del mondo fanno riferimento alle agenzie di stampa fotografiche, ma anche agenzie che danno i contenuti, poi ovviamente queste agenzie vengono elaborate, vengono interpretate, reinterpretate, impastate, ma sinceramente non vedo assolutamente un pericolo del genere, anzi, secondo me è un vantaggio perché razionalizzare le risorse e quindi avere più risorse da spendere significa un'informazione di maggior qualità. Io penso che sia vero l'esatto contrario, cioè io credo che ci sia una tale pluralità di informazione che è tracimata dall'essere pluralità e è diventata parcellizzazione dell'informazione, perché ormai tutti quasi inventano informatori e torno al discorso di prima, aprire un blog su internet ci vuole lo stesso tempo che ci voleva per Peppino Impastato e mettere in piedi Radio Autacini, sia un'antenna, un ripetitore e via e parto uguale, con costi ancora minori e quindi tutti i confronti con quel mondo, quindi in realtà la pluralità dell'informazione è talmente esasperata che è diventata parcellizzazione di informazione, è talmente la parcellizzazione esasperata che non è più informazione ma diventa solo comunicazione, allora forse bisognerebbe tornare a fare meno comunicazione, in questi giorni guardiamo su Facebook, su Twitter Salvini e Di Maio che passano credo i tre quarti dei loro tempi a farsi video e a raccontare alla gente cosa fanno, è informazione questa no, questa non è informazione, questa è comunicazione, questa è comunicazione perché loro eliminano il filtro dell'informazione, proprio lo azzerano, parlano direttamente a un pubblico che evidentemente non sempre in caso è in grado di discernere e in qualche modo scavalcano la logica della capacità dell'informazione di sapere in qualche modo creare dei distinguo, creare contraddittorio, confutare le teorie, in qualche modo rispondere a certi teoremi, allora probabilmente la capacità di poter fare economie di scala per garantire la presenza sul territorio di una qualità dell'informazione che può non essere quella di una enormità di testate, può in qualche modo assicurare la pluralità e quindi la correttezza dell'informazione, l'alternativa è la giungla, l'alternativa è il tutti dentro e quindi nessuno. Io vado a chiudere con una domanda a tutti e due, non so se ci sono altre domande, spesso i giornali oggi forse più che mai, più che in passato si contraddistinguevano e si diventavano forti quando facevano delle campagne per qualcosa, per ottenere qualcosa o contro qualcosa, se voi doveste fare, tu per la Calabria in questo caso te lo chiedo, per la Sicilia e per Palermo, una campagna che voi sentite che il vostro lettore ha bisogno che ci sia qualcuno che dia voce è una cosa che serve alla Calabria e alla Sicilia, quale sarebbe la campagna che adottereste? A parte la campagna ovviamente, una campagna sulla legalità che è una cosa che si ha nel DNA, e la si fa tutti i giorni, una cosa concreta è le infrastrutture, assolutamente sì, siamo marginalizzati, siamo scartati e siamo isolati dai grandi flussi non soltanto turistici ma soprattutto commerciali. Io credo che la Sicilia si caratterizzi per una eccessiva predisposizione a un concetto antico del lavoro, cito un dato su tutti, la regione Sicilia ha da sola, la regione Sicilia ha 20 regioni d'Italia, la regione di Sicilia ha da sola un quarto dei dipendenti di tutte le regioni italiane, 13 mila dipendenti più una vasta marea di precari e controprecari eccetera eccetera. Questa logica del posto pubblico è la logica che in qualche modo sta mettendo in ginocchio terre come la Sicilia e in generale le regioni del Mezzogiorno, la Sicilia in particolare. Ecco, noi da tempo siamo impegnati, ecco il giornale, nel tentativo di far uscire le logiche dell'economia e dello sviluppo della terra dalla logica pubblica. Il privato, l'azienda privata viene visto sempre come una sorta di demone, come il nemico, l'acqua privata quindi è un nemico, la raccolta rifiuti privata quindi è un nemico. Perché è un nemico? Perché ovviamente si ritorna sempre al concetto della clientela se non della condivenza mafiosa che in qualche modo ferma le logiche di una capacità di privatizzare o privatizzazione che possa essere funzionale allo sviluppo di un territorio. Ecco, su quello noi ci battiamo da tempo, lo facciamo anche con dei fondi, con dei teoriari anche particolarmente incisivi, perché vorremmo che si capisse, devo dire che molti giovani lo stanno facendo, noi più volte abbiamo raccontato, a proposito di buone notizie, come diceva Lino prima, di grandi realtà, soprattutto nel mondo dell'agricoltura, in Sicilia, di giovani che hanno deciso di impegnarsi, di investire in quel settore senza dover aspirare al famoso posto pubblico di Checco Zalone, di Covado, dell'ultimo film, per cui lo mandano in giro per il mondo pur di non dimettersi. Allora, quando si capirà che la capacità di investire da parte del privato, del giovane su se stesso, e la capacità del pubblico di aprire le porte al privato, all'investitore privato, alla risorsa privata, allora probabilmente lo sviluppo di questo territorio e della Sicilia in particolare ne trarrà beneficio e noi su quello ci battiamo a tempo e continueremo a batterci. Grazie, ringrazio Marco Romano e Lino Morgante, direttore del giornale Sicilio e della Gazzetta del Sud, questo è il nostro trame news quotidiano che prepara i nostri ragazzi, futuri giornalisti, ora vi passerò i numeri di telefono così li chiamate a tutti e così li rovidiamo. Grazie, grazie a voi. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a te, grazie a voi.